la sera del 10 luglio davanti al poliziotto che lo interroga il signor ritz e visibilmente scosso poche ore prima nel piccolo parco della sua città flint city mentre portava spasso il cane si è imbattuto nel cadavere martoriato di un bambino un bambino di 11 anni a flint city ci si conosce tutti e certe cose sono semplicemente impensabili così la testimonianza del signor ritz è solo la prima di molte che la polizia raccoglie in pochissimo tempo perché non si può lasciare libero il mostro che ha commesso un delitto tanto orribile e le indagini scivolano rapidamente verso un uomo e uno solo terry maitland testimoni oculari impronte digitali gruppo sanguigno persino il dna puntano su terry il più insospettabile dei cittadini il gentile professore di inglese allenatore di baseball dei pulcini marito e padre esemplare ma proprio per questo il detective ralph anderson decide di sottoporlo alla gogna pubblica il suo arresto spettacolare allo stadio durante la partita e davanti a tutti fa notizia e il caso sembra risolto solo che terry maitland il 10 luglio non era in città e il suo alibi è inopugnabile testimoni oculari impronte tutto dimostra che il bravuomo non può essere l'assassino per stabilire quale versione della storia sia quella vera non può bastare la ragione perché il male ha molte facce e king le conosce tutte ai libri di carletto di outsider il nuovo di stephen king edizioni sperlin in capfer collana pandora alla prossima settimana sempre qui sul canale youtube carletto romeo e ricorda di portare sempre con te un buon libro grazie a tutti grazie a tutti